Eeeh! 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 Fala firmare! Marco, ragazzi, lui è eccezionale, lui è il... in Italia e... Altre... Al momento ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, dai. Tu è... quando vieni a Washington? Ah, c'è... No, sono contento. C'è... C'è... Quanti anni ho? Giocavo... 32... 31... No, stop! Marco! A lei, dai! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni!